Calorosa accoglienza per il nuovo allenatore dell'Associazione Calcio Femminile Arezzo, presentato questa mattina presso la sede del Museo Amaranto. Sarà la guida della squadra che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato con l'ambizione di migliorare la stagione precedente. Ho sentito, ho avuto questo feeling dal primo meeting, che era un progetto che è già cominciato e ha avuto un gran successo. Ora siamo nella seconda parte del progetto, quindi questo è un stimolo per noi, lo staff, le calciatrici, di ricominciare anche e di continuare, diciamo, questo progetto, l'ambizione del presidente. Quindi nel primo meeting ho avuto la stessa ambizione con lui, ho visto che era molto vicino alla mia mentalità anche, mi è piaciuta questa cosa. Quindi la scelta era facile. E' cominciato questo progetto da Emiliano, dalla Serie C, che hanno avuto questa grandissima stagione. Ora il club, la società, come ha detto anche il presidente, è nella seconda parte della crescita, che è già cominciata. Quindi non vediamo tutti l'ora, lo staff, le calciatrici, di ricominciare questo progetto a lunedì al campo. Stiamo dando continuità al nostro progetto, un progetto che nasce tre anni fa. Abbiamo chiuso e archiviato un primo triennio, ne apriamo un altro, con tante cose in più. Quindi questo ci fa pensare molto bene, perché abbiamo sicuramente tutti gli ingredienti per portare a casa anche dei risultati interessanti. Abbiamo investimenti sulle strutture, abbiamo progetti che ci permetteranno nei prossimi tre anni di crescere molto, ma purtroppo cresce tanto anche il calcio femminile, quindi stiamo rincorrendo questa crescita. Lo abbiamo visto l'anno scorso in una Serie B molto complessa, con squadre e club importanti, con investimenti che sono molto diversi dai nostri, però siamo stati sicuramente al passo, abbiamo fatto molto bene, abbiamo mantenuto la categoria. Alla fine delle tre neopromosse noi siamo stati gli unici che siamo rimasti nella categoria, e questo è importante dirlo. Quest'anno sicuramente consolidiamo questo progetto e cercheremo di migliorarci. Abbiamo capito tante cose, oggi abbiamo un'esperienza diversa, quindi mi fa veramente piacere vedere un mister con questo entusiasmo, con questa emozione, che è molto utile per creare gruppo e positività. C'è tanta emozione nell'essere qui oggi, nel vedere che comunque c'è tanto seguito, anche, ripeto, la sede, siamo qui nel Museo Amaranto, siamo nello stesso luogo dove ci sono tutti i ricordi, tutte le grandi imprese del maschile insieme alle nostre, quindi sicuramente un giorno importante, sono stati fatti annunci importanti, il Presidente, insieme a me e all'allenatore, abbiamo parlato di un progetto che non parte da oggi in realtà, perché parte da almeno tre anni fa, però che sicuramente ha subito un rinnovamento molto, molto importante. E questa è la ripartenza, dopo un tre anni importante, per mettere in atto e per portare avanti un progetto che è molto ambizioso e che ha deciso di apportare delle modifiche, proprio perché vogliamo sempre migliorare quello che magari non ha funzionato, e quindi vogliamo fare ancora meglio, vogliamo veramente, abbiamo in mente di mettere su un progetto importante che durerà, insomma, a partire da adesso, nei prossimi anni.